Un'alleanza nuova, una ricreazione che Dio fa in Cristo Gesù, capace di trasformare il cuore dell'uomo dalle radici e non soltanto nell'apparenza. Su questo si è soffermato il Papa nella Messa a Santa Marta, prendendo spunto dalla lettera agli ebrei che riporta il testo del profeta Geremia. Quattro gli effetti che questa rinnovata alleanza deve generare in tutto il popolo. Un cambio di vita e di mentalità improntato alla legge di Dio, che non è soltanto un modo esteriore di agire, ma un modo diverso di vedere le cose senza invidia né freddezza, piuttosto con gioia e benevolenza. Ancora un cambio di appartenenza che porta a sentirci figli dell'unico Dio, rifiutandone qualsiasi altro. Infine un cambio di cuore non più schiavo dell'egoismo, dell'invidia e della condanna, come quello dei dottori della legge che perseguitavano Gesù, ma un cuore docile che sa perdonare come Dio. Lui dimentica perché perdona, davanti a un cuore pentito, perdona e dimentica. Io dimenticheo, non ricorderò i loro peccati. Ma anche questo è un invito a non farle ricordare al Signore i peccati, cioè a non peccare più. Tu mi hai perdonato, tu hai dimenticato, ma io devo un cambio di vita. La nuova Allianza rinnova e mi fa cambiare la vita, non solo la mentalità e il cuore, ma la vita. Vivere così, senza peccato, lontano dal peccato. Questa è la ricreazione, così il Signore ci ricrea a noi tutti. Francesco ha ribadito l'importanza di restare fedeli a questa alleanza che ci porta ad appartenere soltanto al Padre, non alla mondanità, non allo spirito del mondo, non alle stupidaggini, ma a Dio soltanto. Grazie a tutti.